Le coinvolgenti note della Oliver River Jazz Band hanno chiuso in musica a Cairo Montenotte i festeggiamenti per il compleanno del Banco Zoaglio di Ceva. Abbiamo deciso di festeggiare i 140 anni anche qui in Val Borbida perché è proprio qua in Val Borbida nel 1986 che la banca ha fatto i primi passi fuori da Ceva dalla provincia di Cuneo con l'apertura della filiale di Carcare. Per noi la Val Borbida è molto importante e ci tenevamo in questo modo a ringraziare chi anche in questa zona ci ha dato fiducia per tutti questi anni. Per i 140 anni della banca la famiglia Zoaglio ha offerto la pericina nel foyer del Teatro Chebello e lo spettacolo musicale per dire grazie. Credo che sia quasi imbarazzante l'affetto che di fatto dei nostri clienti ci riservano e la fiducia che siamo noi a dover dare in loro. Il primo appuntamento è stato a Torino, una piazza nuova, abbiamo trovato e avuto una risposta, un calore forse insperato. Il secondo a Ceva, nella nostra Ceva, la sede della nostra banca dove è nato e anche questa sera qui vedo tanta gente. Ci tengo veramente a ringraziare chi ci sta dimostrando così tanto affetto e do un appuntamento ai 150 anni.